Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Si riparte con la seconda dose di vaccini per gli ultraottantenni, poi le persone definite a rischio o con disabilità e infine quelli ultra settantenni. L'arrivo dei vaccini fa ridecollare la campagna. Sì, questo è importante. Stiamo concludendo tra oggi tutti gli ultraottantenni. La seconda dose, domani inizieremo con gli ultraottantenni e domiciliari, con quattro squadre appositamente predisposte dell'Adi che andranno nelle abitazioni di queste persone che non possono deambulare per provvedere a fare il vaccino, a fare la vaccinazione. Dopodomani iniziamo anche con i disabili, la legge 104 ex articolo 3. Questi però li faremo nei punti vaccinali predisposti sia nei presidi ospedaliere oppure in altre strutture idonee, in quanto trattasi di persone che devono essere attenzionate nel momento in cui va somministrata la dose di vaccino e quindi debbono essere usate tutte le precauzioni possibili. Quindi appunto si è deciso di farle all'interno degli ospedali. Tutta questa campagna può essere messa in atto perché stanno arrivando importanti dosi di vaccino. Lei ha lanciato l'appello e l'allarme anche per i posti letto negli ospedali. Cosa si può fare? Chiedere aiuto ad altre ASL oppure limitare al massimo i ricoveri? Noi, ringrazio di Dio, oggi questo problema non ce l'abbiamo. Il nostro trend si mantiene anche se c'è un leggero incremento delle terapie intensive. Stiamo un po' più tranquilli anche perché a giorni già siamo mettendo in atto l'apertura per trasferire i primi pazienti sui 21 posti letti di terapia subintensiva appena realizzati. Questo ci dà un po' di respiro e ci consente di fare anche una programmazione buona sui ricoveri. Quando entrerà il primo all'interno dei nuovi posti letto? Se non fine settimana, lunedì prossimo già entreranno lì.